questo usassi degli strategemmi umani questo è peccato il trucco deve essere tolto dalle vere figlie di dio certi tipi di cosmetici che vogliono modificare l'aspetto esteriore gioielli orecchini braccialetti e anche i tatuaggi ovviamente sono tutte cose che hanno una procedenza diabolica che non vengono dallo spirito di dio e non devono fare parte del popolo di dio se qualcuno di voi ha delle curiosità perché so che è venuta questa curiosità qualcuno possiamo usare delle creme per per la salute per l'igiene allora questo è diverso fratelli ogni tanto se tu hai un bisogno se per esempio hai delle irritazioni ho detto delle irritazioni non delle rughe se tu hai delle bruciature ma la tua posta io iniziamo a compilare 30 anni come la tua posta è salito al tuo ma la tua posta è salito al tuo ma la tua posta è salito al tuo Ok. Alla palpasta, i... Eita, la popita, che ne vieni! Chora, va, va! Chora, va! Chora, va! Chora, va! Chora, va! Chora, va! Non è possibile, non è possibile. Grazie a tutti. 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 Vi ringrazioni di Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh Signore fai di me una perdita difficile Che ho fatto il Vangelo per le strade Per le piazze, per i mercati A me e malerugia, gloria a Dio Signore ungimi, signore Perdonami per ogni mancanza Per cosa stessi male, signore Dico, signore, io ti amo Fai di me uno strumento potente Anche qui a Pia Reggio Spadra il mio figlio Fulgimi, signore, fulgimi, signore Fulgimi, lavami col sangue della mia figlia E nel nome di Gesù Fulgimi, fulgimi, fulgimi Fulgimi, fulgimi, fulgimi E nel nome del Signore Il rasco, il raga Fulgimi, fulgimi In religione Il rasco, il rasco, il raso Il rasco, il rasco Il rasco, il rasco Il rasca daadoxa Il rasco, il risco il nome di Gesù! Glorie a Dio! Alleluia! Glorie a Dio! Glorie a Dio! Voi non vuoi che preghi con te? Non vuoi che preghi? Glorie a Dio! Se c'è ancora qualcun altro? Non vuoi! Vieni amore! Vai! Glorie a Dio! Non vuoi! È un amore! Oh Padre! Ti presento sangue di questo ubbietro! Padre! Spirito Santo! E' nel nome di Gesù! Via passiassi Spirito che distruva questo bambino! Oh! Spirito di ribellione! Di disubbidiezza! Fuori nel nome di Gesù! Oh Re! E' nel cielo Spirito Santo! coprilo con il sangue di Gesù questo bambino purificalo con il sangue di Gesù coprilo con il sangue di Gesù via passassima, via, 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 via nel nome di Gesù, nel nome di Gesù nel nome di Gesù, orra che sia un missionario, un pastore un evangelista, è nel nome di Gesù orra 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 nel nome di Gesù, nel nome di Gesù nel nome di Gesù Cristo Padre, nel sangue di Daniela c'è potenza, il sangue di Gesù c'è potenza il sangue dell'Aniello ancora se c'è qualcuno a me voglio Dio andrà che mi dice questa donna e nel nome di Gesù Cristo adesso che lo Spirito Santo discenda su di te con il fuoco e ti liberi da qualsiasi male nel nome di Gesù il rabatere e sceve il rabatere e sceve il rabatere e sceve signore 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 aiutami perdonami perdonami liberami liberami non di malità non di carnalità fai di me un strumento nelle tue mani lavami lo sangue di Gesù purificami con sangue di Gesù mi bento mi ravvedo nel nome di Gesù nel nome di Gesù e nel nome di Gesù padre questa donna si è riempita del fuoco che si è riempita del fuoco lei e la sua famiglia e nel nome di Gesù il rabatere e sceve il rabatere e sceve vedere il nome di Gesù il rabatere e sceve il rabatere e극io mi proprio Irra! salabaja arabaja Salabaja Alleluia questa bambina pleghiamo pleghiamo primo lo spedio sono profondo vede con noi preghiamo preghiamo lo spedio risultate preghiamo 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 insieme questa bambina padre era il nome di Gesù e mio Sì Alleluia grazie per questa vita il padre santo, oh guarda che un angelo sembra in questa lingua signore, copre la sua mente, copre la sua mente signore, di ogni attacco il padre santo, perché i nostri bambini sono attaccati attraverso la televisione signore, attraverso tante cose anche nelle scuole il padre santo, copre la sua mente signore, non le sorreggie alle cose malvagie il padre nel mondo,